ok buongiorno a tutti amici di thrusters nel nostro spazio interviste dedicato alle testimonianze eh abbiamo il piacere di avere con noi Matteo Todeschi benvenuto Matteo a tutti allora Matteo collegato con voi Matteo ehm tu sei il founder di investimi punto com ci puoi spiegare di che cosa si tratta innanzitutto? Sì investimi punto com è un blog di finanza personale investimenti quindi tratto tutti quei temi che sono più cari secondo me alle persone in generale cioè può essere utile veramente a chiunque se appunto vuoi scoprire di più sulle tasse ma per esempio sul reddito netto, reddito lordo, il patrimonio ehm il pension plan ehm insomma tutti gli aspetti che riguardano la gestione monetaria eh investimi fa sicuramente per voi eh ovviamente tratto anche di investimenti certo e come mai ti è venuta l'idea di lanciare questo blog cioè tu che tipo di esperienze hai? ma in realtà è nato proprio come una cosa personale che ho iniziato a fare per me stesso quindi io facevo tutte queste analisi e un giorno ho deciso di iniziare a pubblicarle e ho visto che alla gente interessavano molto questi risultati che ottenevo e quindi appunto ho deciso di trasformarle in una vera propria attività ovviamente non mi sono messo dal giorno alla notte a fare questa cosa ma ho comunque eh un background economico visto che ho fatto un master in business administration quindi un una piccola base e anche una laurea in ingegneria quindi una piccola base diciamo di partenza ce l'avevo. Certo. Dove l'hai fatto? A New York? Dove ti trovi tu adesso? Adesso mi trovo a San Francisco. A San Francisco. Per un progetto in ambito startup. Ok. Ok. E quindi stiamo facendo un collegamento Milano San Francisco oggi. Siamo molto international. Senti Matteo ci dicevi quindi che ehm questo blog è nato da una tua esigenza proprio di ehm sfruttare al meglio tutti gli strumenti che il mercato ci offre per diciamo avere anche un delle rendite interessanti no? Quindi da un punto di vista finanziario essere eh tranquilli e soddisfatti. Ma quindi si può vivere di rendita? E se sì come? Allora beh è una domanda interessante insomma scomento che i vostri ascoltatori saranno veramente ansiosi di scoprire la risposta. E ovviamente come puoi immaginare sì è effettivamente possibile vivere di rendita. Il problema è come effettivamente perché vivere di rendita per magari eh bruciando il capitale che si è messo da parte in pochi anni. Se per esempio facciamo che hai diecimila euro da parte e inizi cancelli il tuo lavoro e inizi a bruciare questi soldi ovviamente è come se stessi vivendo di rendita però quanto ti durano? Pochissimo. Quindi diciamo che eh vivere di rendita è possibile però è necessario una grande pianificazione e soprattutto se si vuole vivere di rendita a lungo termine è fondamentale avere degli investimenti o comunque delle attività che ti permettano in modo totalmente passivo di generare delle entrate. Infatti per vivere di rendita all'infinito è necessario che le tue entrate siano maggiori rispetto alle tue uscite. Come potete immaginare infatti se per esempio eh abbiamo delle spese per mille euro al mese se ogni mese spendiamo mille e uno euro piano piano il nostro capitale si consumerà. Se invece abbiamo delle spese per mille euro ma abbiamo dell'entrato per mille e uno euro a quel punto possiamo vivere di rendita felici e contenti per il resto della vita. certo e senti a livello di di strumenti invece no? Se ci puoi dare qualche suggerimento su quali possono essere gli strumenti eh finanziari che possono maggiormente aiutare in questa in questa appunto vita eh questo vivere di rendita e se tra questi c'è anche il crowdfunding che ormai è un fenomeno molto conosciuto si sta diffondendo sempre più e quindi magari anche questo può essere uno strumento valido. Allora gli strumenti ce ne sono veramente tantissimi il problema secondo me eh è più la fattibilità per esempio ci sono le famose lavanderia gettoni che sono quindi quei famosi business passivi che dopo in realtà non sono tanto passivi ci sono le royalties oppure le proprietà intellettuali ehm ci sono altre soluzioni per esempio nell'ambito dell'utilizzo di internet eh per esempio appunto se uno ha un sito web che genera delle entrate periodiche anche quello può essere considerato in qualche modo un'entrata passiva. Certo. Però sono entrate passive che in realtà sono poco passive perché si mette eh in campo bisogna intervenire attivamente per diciamo attivarle e per mantenerle. La soluzione assolutamente passiva invece secondo me sono effettivamente gli investimenti perché con gli investimenti uno mette da parte del capitale e questo capitale genera in maniera totalmente automatica delle entrate e quindi tra gli investimenti ci sono ovviamente gli investimenti finanziari quindi le classiche azioni o i fondi ma eh sicuramente una soluzione interessante che si sta sviluppando con grande forza soprattutto nell'ultimo periodo appunto il crowd funding ehm con il crowd funding infatti si può investire in tante realtà anche a partire con dei capitali molto piccoli ed è possibile creare anche un portafoglio di investimento molto diversificato che appunto permette di ridurre i rischi legati all'investimento stesso. Quindi penso che insomma il crowd funding sia effettivamente una soluzione vincente per generare delle entrate passive. Ecco e a proposito di crowd funding eh visto che appunto parlavi di piattaforme che consentono di accedere a di investimenti a delle forme di ehm di finanziamento di progetti anche con capitali minimi. Eh come sei venuto a contatto con Trasters? Come come è nata questa liaison? Allora io ho scoperto Trasters tram Trasters scusate ehm tramite appunto delle ricerche Google. Stavo cercando delle piattaforme di crowd funding immobiliare in Italia e ho notato che effettivamente Trasters è una delle realtà più grandi presenti nel nostro territorio. Ottimo eh ma esiste visto che abbiamo parlato di pianificazione finanziaria quindi di dell'importanza di pianificare no il eh diciamo il i propri investimenti, le proprie risorse, i propri investimenti e utilizzando diversi strumenti per diversificare e ridurre il rischio. Esiste un ammontare minimo di risorse finanziarie da detenere per poter realizzare questa questa vita eh da da rendita? Esiste anche certo un ammontare minimo che però è molto difficile da calcolare. Infatti dipende da troppi parametri. perché tutto dipende di fatto dalle spese che una persona perché appunto come abbiamo detto se eh diciamo il il capitale si esaurisce a quel punto non non la il sogno di vivere di rendita insomma diventa irrealizzabile. Eh quindi diciamo che tutto sta tra il bilanciamento tra entrate e uscite. Ad ogni modo ehm sul c'è esiste la regola del quattro per cento che è stata creata negli Stati Uniti circa negli anni ottanta che ti permette di stimare più o meno quanto si ha eh in base alle tue spese quanto capitale devi avere da parte per poter effettivamente vivere di rendita eh per il resto della tua vita. Eh tuttavia questa regola del quattro per cento è solamente una cosa molto approssimativa che è stata creata per semplificare diciamo a livello concettuale il 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 vivere di rendita. Il problema appunto nasce dal fatto che questa regola è stata creata negli anni ottanta quindi attualmente sembra che non sia più eh così valida. Eh al momento eh studi di settore rivelano che la regola del quattro per cento ah che magari è meglio se magari non tutti sono familiari con questa regola. Praticamente questa regola dice che mh prelevando il quattro per cento del proprio capitale investito ogni anno è possibile vivere di rendita per il resto della propria vita. Quindi ho per esempio centomila euro da parte investiti in borsa oppure per esempio una piattaforma di crowdfunding su Trusters e appunto ogni anno posso prelevare il quattro per cento senza mai andare diciamo ad intaccare il capitale i centomila euro che voi investite inizialmente. Eh appunto il problema nasce dal fatto che questa regola non è più così valida principalmente per le oscillazioni del mercato eh ad ogni modo ehm appunto io ho cercato di ricreare anche questa regola sul sul mio sito ho creato un calcolatore che eh eventualmente vi permette diciamo di eh valutare la vostra situazione personale e tenere conto anche dei nuovi trend di mercato. Quindi appunto se se vi interessa fare una eh analisi personalizzata la trovate sul mio sito nella sezione risorse. Quindi investimi.com slash risorse public. Ok perfetto è perfetto quindi molto molto utile. Senti e invece il movimento fire che cos'è? Allora il movimento fire è un movimento americano. Gli americani sono proprio forti su su queste cose ehm che appunto si propone di andare in pensione. Scusa Laura ti ho perso. Ci sono ci sono ci stiamo ti stiamo ascoltando. Potresti ripetere? Che cos'è stavi giustamente dicendo cos'è il movimento fire? Ok. Prego prego. Dicevi che un movimento americano. Sì un movimento americano eh appunto nato intorno anche questa agli anni ottanta che eh si propone appunto di eh fare di tutto per andare in pensione presto. Infatti fire sta per financial independence retire early. Quindi indipendenza finanziaria andare in pensione presto. Ehm appunto questo movimento fire è particolarmente forte e si sono addirittura sviluppate diverse branche diciamo. Sono i fire più estremi che eh si propongono appunto di risparmiare alla fame per qualche anno e poi ritirarsi con eh delle spese piuttosto basse eh andare in pensione a trenta, quaranta, quarantacinque anni. Eh ovviamente questo richiede dei grandi sacrifici sia durante la fase di accumulo del capitale ma anche ovviamente nella fase successiva perché avendo a disposizione così poco tempo per mettere da parte il capitale il capitale messo da parte ovviamente non potrà essere molto grande a meno che appunto uno non abbia un lavoro molto importante che gli permetta di di mettere da parte un capitale importante in poco tempo. Però esiste esiste anche una via di mezzo che è il fire diciamo un po' più blando eh che consiste nel mhm accumulare del capitale pian piano e per esempio eh appunto lavorare full time risparmiare come come una persona normale eh però magari abbassare i costi della propria vita eh per esempio lavorare fino ai cinquant'anni risparmiando e tenendo sotto controllo le proprie spese e dopo cinquant'anni magari fare un lavoro part time e che permetta comunque di generare delle entrate e e comunque diciamo abbassare il proprio stile di vita ma pur mantenendo uno stile di vita piuttosto asato. Certo. Certo. Ottimo. Beh sono delle belle prospettive. diciamo che dimmi dimmi diciamo che se secondo me non è solo un movimento americano adesso effettivamente si sta diffondendo anche in Italia e effettivamente è una cosa realizzabile. Il problema sta tutto nella pianificazione che appunto magari gli americani da questo punto di vista sono molto più forti hanno delle competenze in ambito finanziario molto più avanzate rispetto a diciamo l'italiano medio eh quindi di fatto secondo me anche in Italia con una giusta pianificazione finanziaria eh sarebbe possibile effettivamente anche andare in pensione presto. Certo certo. Eh grazie Matteo e mh cercheremo appunto di di colmare questo questo gap no conoscitivo eh rispetto agli americani che sono sempre così tanto avanti rispetto a noi e e lo facciamo anche tramite il tuo blog quindi che ripetiamo è investimi.com e lo facciamo anche attraverso eh corsi che la piattaforma di Academy Immobiliare punto it che è la piattaforma di eh l'e-learning che è stata lanciata da da Trusters e piattaforma appunto di crowdfunding immobiliare ehm propone diversi diversi corsi su diversi diverse tematiche e le tematiche sono un po' quelle di cui ci stai parlando tu in questo caso sono più legate alla pianificazione finanziaria e infatti presto anche la piattaforma di Academy Immobiliare lancerà un un corso molto specifico sul crowdfunding e su come eh questo strumento può essere di aiuto anche in fase di pianificazione finanziaria e anche diciamo come strumento per realizzare questa vita da rendita eh e quindi anche per cercare come dire di di colmare il gap no con questo movimento americano che corre corre e noi siamo un po' indietro rispetto a questo movimento Matteo io ti ringrazio e spero appunto di di intervistarti presto così ci aggiorni anche sui tuoi sviluppi io saluto i nostri aspettatori da casa e per tutte le informazioni sul crowdfunding immobiliare di Trusters e Trusters.it ciao a tutti ciao Matteo ciao a tutti grazie Laura buona giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti